Palla a mano, l'Albatro gioca in casa il penultimo match pre-natalizio, coach reale concentrati per vincere. Giro di Boa nella Serie A Gold, Team Network Albatro che gioca in casa la penultima partita prima della pausa natalizia. Alla palestra cradina Pino Corso, domani a partire dalle 16.30 arriva il Campus Italy, ragazzini terribili che la federazione italiana gioco handball ha riunito investendo sul futuro del movimento in Italia. All'andata finì 31-26 per i sragusani. I giovani azzurri però dimostrarono sin da quel debutto nella massima serie di non avere alcun timore reverenziale nei confronti degli avversari. La Team Network Albatro che ha chiuso il girone di andata a quota 11 punti e con qualche rammarico ha tracciato comunque un consuntivo positivo dopo le prime 13 giornate di campionato. Nessuna recriminazione, ammette coach Fabio Reale, ma sono certo che con la squadra sempre al completo oggi potremmo contare qualche punto in più nella nostra classifica. Iniziamo il girone di ritorno contro una squadra che è cresciuta partita dopo partita, continua il tecnico sragusano. Bisognerà stare attenti e non concedere cali di tensione. Giochiamo contro un gruppo giovane pieno di entusiasmo che non deve essere affatto sottovalutato.